Ritrovate bellezze, buon anno, bentornati sul mio canale Veritas Genesis, buon anno da me e vi auguro un 2024 pieno di felicità, di speranza che tutto ciò che è stato fatto nelle cantine al buio, nel segreto, verrà urlato dai tetti. Ci siamo, ci sono molti segnali che indicano questa tendenza, non so se vi siete resi conto che il mondo degli influencer adorati e venerati come idoli sta crollando, il denaro stesso venerato come un idolo sta crollando, i personaggi più illustri del mondo nascondono dietro di sé talmente tanto marciume, sono dei sepolcri imbiancati, come li chiamava Gesù. Cominciamo, l'anno volevo leggervi questo articolo di Roberto Marchesini dalla Bussola Quotidiana, a cui consiglio tutti l'iscrizione per poi ricevere la newsletter sulla vostra email. Gino Cecchettin, un padre nel Truman Show, ha suscitato scalpore la notizia che il papà di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo ex fidanzato, abbia ingaggiato un'agenzia di comunicazione, ma la verità è che questa è la norma, tutto quello che va sui media dalla cronaca nera alla politica è artefatto, è spettacolo. Ok, queste parole per me devono essere incise nella pietra, incise nel nostro cuore, nella nostra mente. Tutto quello che va sui media dalla cronaca nera alla politica è artefatto, è spettacolo. Dunque la notizia è questa, Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa circa due mesi fa, avrebbe dato mandato all'agenzia britannica Andrew Nuremberg di curare la propria immagine, fallito almeno per ora l'impegno civico a fianco di Maria Paola Concia. Gino Cecchettin ha in programma un libro e una fiction sull'omicidio della figlia. Capisco perfettamente che sfruttare l'omicidio della figlia per dare il via a una carriera mediatica può sembrare sconcertante, ma evidentemente in famiglia la pensano diversamente. Prima abbiamo Elena che nel giorno del ritrovamento del corpo della sorella recita freddamente un discorso simbolo contro il patriarcato, che la porta ad un colloquio esplorativo con i vertici del PD. Poi la nonna che negli stessi drammatici giorni presenta il proprio libro femminista, nonché alcuni dipinti decisamente anomali. Avvicinandosi al festival di Sanremo, tremiamo pensando alla possibile prossima carriera del fratello Davide. Al di là dei dubbi sull'opportunità di certe esposizioni, tuttavia occorre forse soffermarci sul punto. Sul fatto, cioè, che ci siano dei professionisti che curino l'immagine di Gino Cecchettin, detto irreverendo, tra parentesi, nei suoi circoli. Beh, non c'è nulla di strano, tutto quello che arriva sui media lo fa tramite agenzie d'immagine. Prendiamo ad esempio le Virostar, quanto ci hanno frantumato le balle, no? L'immagine di Roberto Burioni e Ilaria Capua è curata dall'Agenzia Elastica. Antonella Viola, invece, si è affidata alla Gabriella Nobile Agency. Questo cosa significa? Semplice, che quello che ci arriva tramite media è uno show. È studiato fin nei minimi dettagli, artefatto. I media non fanno informazione né opinione, ma fanno spettacolo, intrattenimento. Tutto è intrattenimento, dalla cronaca nera alla politica, dallo sport fino alla guerra. Ce lo spiega il libretto del sociologo Neil Postman, divertirsi da morire il discorso pubblico nell'era dello spettacolo. Questo sarà il mio prossimo acquisto, Lewis Roma 2021, divertirsi da morire il discorso pubblico nell'era dello spettacolo di Neil Postman. In questo lavoro l'autore spiega la differenza tra la distopia di Huxley e quella di Orwell. Quello che Huxley insegna è che nell'era della tecnologia avanzata la devastazione spirituale avviene più probabilmente da un nemico con il sorriso sulle labbra, che è da uno il cui comportamento ispira sospetto e odio. Nella profezia di Huxley non c'è un grande fratello che per sua scelta guarda verso di noi, siamo noi per nostra scelta a guardare verso di lui. Non c'è bisogno di carcerieri, cancelli, ministeri della verità. Quando una popolazione è distratta da cose superficiali, armi di distrazione di massa, quando la vita culturale è diventata un eterno circo di divertimenti, quando ogni serio discorso pubblico si trasforma in un balbettio infantile, quando in breve un intero popolo si trasforma in spettatore e ogni affare pubblico in vaudeville, allora la nazione è in pericolo, la morte della cultura è chiaramente una possibilità. Insomma, viviamo in un enorme Truman Show che condiziona tutto ciò che pensiamo, diciamo, sentiamo, ma la cosa più stupefacente è che nonostante il celebre avvertimento paolino, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Romani 12,2 Anche molti cattolici ci cascano e lasciano che altri orientino la loro vita. Ci siamo dimenticati degli avvertimenti stessi di Gesù a proposito dei lupi travestiti da agnelli e dell'invito ad essere prudenti come serpenti. Matteo 7,15 e Matteo 10,16 Abbiamo abbandonato non solo un sano spirito critico, ma addirittura una salutare diffidenza nei confronti del mondo, dimenticando che Lui non è con il Logos, è contro di Lui. Matteo 12,30 Non esiste neutralità. Chi non è con il Logos è contro di Lui. È Gesù che dice, chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. È più che urgente quindi convertirci, rimettere Cristo a guida della nostra vita, smetterla di ascoltare falsi, ed è proprio il caso di dirlo, profeti e di unire l'innocenza delle colombe all'astuzia del serpente, così come ci è stato insegnato e soprattutto buttare il televisore. Io ci ho fatto una storia su questo buttare il televisore. Mi raccomando, seguitemi su Instagram a GenesisNirvana7 per updates quotidiani. Grazie mille bellezze, a presto, baci da Nirvana.